Allora io chiederò cosa ci fanno con la casa. I due mandati, vorrei sottolineare che non sono due anni, perché tutti hanno detto no, troppo poco, se uno fa bene le cose perché mandarlo via. Allora De Gasperi, due mandati sono otto anni di media, De Gasperi ha fatto dal 54 al 62, mi sembra, c'è stato otto anni, con otto anni fai tutte le notifiche che vuoi fare e sei illuminato dalla politica, non 30, 40, la tele lì da 35 anni, c'è dietro da 30 anni, però devono andare a lavorare, una volta nella vita devono capire cosa significa prendere un treno, andare a prendere un bambino a scuola, devono capire di fare le cose che fa il popolo sovrano, sovrano. i bambini, i bambini. Lo sai che c'hai già 15.000 euro di debito? Tutto bene? Tutto bene, è una buca para Hai delle ziemi cate? No, ma sono belle queste cose Sono loro che dovranno passare avanti un po' le cose Quindi l'acqua, il rubinetto, le bottiglie di placebo Le spiegano un po' a caso Grazie, grazie